Siamo riusciti a tamponare 140 figure, di cui 128 alunni e 12 insegnanti. Una classe della terza media purtroppo era già in quarantena. Questo intendimento è nato a fronte di un incontro che si è avuto con la dirigenza scolastica e con le cienze belgini, nonché degli insegnanti. Ed è stato un bel test, un bel test che appunto ci ha permesso di tranquillizzare tanto le famiglie, anche perché si era creata una situazione un pochettino particolare, soprattutto a fronte della quarantena dei ragazzi di terza media, che a tutt'oggi sono a casa. A fronte di 140 tamponi si è verificato un positivo, che a questo punto è domiciliato come tutta la sua classe. Seguirà un tampone molecolare per la sua figura e sperando insomma che si risolva quanto prima la problematica. Questo è stato fondamentale, perché con questo percorso siamo riusciti a ridimensionare il problema ad una classe sola, in quanto circostanziando con quella classe la quarantena, gli altri ragazzi, sia della primaria che della secondaria, potranno continuare la lezione in tutta tranquillità. È stata una giornata impegnativa, organizzata secondo me in maniera corretta, è scorso tutto in maniera molto ligia ed è stato anche un momento molto molto intenso per quanto riguarda il rapporto all'unni insegnanti, le quali si sono prestate anche a fare dei piccoli regali, piccoli doni, definendo la giornata come la giornata coraggio. Quindi è andato tutto bene, anche se qualche bambino, qualche bambina in particolar modo, qualche pianto prima l'ha fatto, prima di fare il tampone, poi dopo si è risolto il tutto nel migliore dei modi.